Ehm, boh, io mi trovo bene anche con le Nike S6 Vabbè, oh, la doccia ha quel qualcosa in più, eh Poi non ti dico se te la fai in Germania la doccia che abbiamo comprato, è sfigato, però sono dettagli Eh, ah, oh cazzo! Guarda che sono così sfigato che arriva... Ma io lo sapevo! Io lo sapevo! Ehm, ahem Questo è il tipico amore degli... dell'ultimo spaghetto che resta nel piatto È solo uno, capito? E questo dura poco No, bellino... Perché ho la... l'impressione che si arrenderanno anche mo' Ehm, vabbè! È stato un piacere ragazzi! Quindi ti posso fare una domanda? Anche due Perché tu parli di musica nel tuo canale? Se non ne capisci un cazzo Quando il ragazzo alto, secco con i tatuaggi, li si vedono le... le chiavi del Porsche dalla tasca, roba così E ci stanno... No! Cioè, è una merda! Poi, vabbè, ci sono anche ragazzi che li rispondono Tipo, eh, la ragazza... Allora, i miei standard sono che... che una ragazza deve pesare meno di 60 kg, capito? Però il fatto, il concetto è un po' sbagliato perché, comunque sia una ragazza, può dimagrire Ma non mi sembra giusto il fatto che una... una tipa si debba soffermare sull'altezza di una persona E che l'altezza non la puoi cambiare, il peso sì Oh, chi è? Udino Oh nooo... No, sono albanese, sono albanese, ti spacco la faccia di rubo e il bici Udino Non ho il push tutto, ecco Udino fritto Udino fritto Udino 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 sono tante roba Ricordati che l'emo grasso, si taglia ójio Udino ecco Udino in intorno al live di suito così e dico guarda la staccata guarda la staccata la baffanculo